Un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti. L'esperienza siciliana non dura tantissimi anni. Abbiamo detto che nasce intorno al 1220-230, finisce con la fine del dominio degli svevi nel regno. Federico II muore nel 1250. Il figlio Manfredi cercherà di conservare il regno agli svevi, ma verrà sconfitto da Carlo I d'Angio, che agisce in alleanza con il Papa, nel 1266. Di fatto con questa data finisce il regno degli svevi nell'Italia meridionale. E finisce anche, si esaurisce anche la poesia lirica dei siciliani. Una poesia che non ha prodotto dei grandi capolavori, ma che è stata storicamente molto importante, da molti punti di vista. Importante anche per il fatto che questa poesia si espande rapidamente dall'Italia meridionale in Toscana e anche in alcune zone dell'Emilia. Cioè, di fatto la poesia siciliana è stato il veicolo che ha fatto penetrare la tradizione della lirica cortese in Italia. Dunque, non come ci saremmo aspettati da nord a sud, non dalla Francia all'Italia settentrionale alla Toscana, ma la diffusione della lirica in Italia ha seguito la strada inversa, dal sud verso il nord, dal regno di Sicilia alla Toscana e poi vedremo dalla Toscana alla Valle Padana. Percorso inverso a quello che ci saremmo attesi. La diffusione di questi prodotti lirici naturalmente parte da quelle zone, da quelle città che politicamente erano vicine o direttamente soggette al governo, al potere di Federico II. Sono le città della Toscana occidentale, le città ghibelline, Pisa, oppure una città come Prato e poi anche città come Bologna, dove il figlio di Federico II, Enzo, era rimasto prigioniero per molti anni. E' tale la velocità di penetrazione della lirica siciliana in questi nuovi contesti, ed è talmente forte la carica, il successo che questa lirica conosce, da trasformare, da provocare una completa trasformazione della lingua in cui quei testi venivano letti. Questo è un fenomeno molto importante nella storia della nostra letteratura dei primi secoli. Cioè i testi siciliani quasi subito sono tradotti, tradotti in toscano. Quindi i testi siciliani che circolano in Toscana e poi in Emilia circolano in una veste toscana, non nella veste originale, non con la veste linguistica siciliana. E questo processo di traduzione è talmente rapido e capillare che addirittura si perde il ricordo di qual era la lingua in cui questi poeti scrivevano. Cioè Dante Alighieri, tanto per fare un esempio, leggeva Giacomo Dalentini e leggeva Madonna dirvo voglio, como l'amor m'ha priso, in verlo grande orgoglio, eccetera, eccetera. La leggeva esattamente come la leggiamo noi. Ma questo è siciliano? No, evidentemente no, non assomiglia per niente al siciliano. Questo è toscano, un toscano arcaico, antico, ma questo è toscano. Allora com'era la lingua di questi poeti siciliani? Ne abbiamo un esempio. Tutta la produzione in veste originale è andata perduta. Sono rimasti soltanto pochi testi. Ci sono arrivati in modo fortunoso. Pochi testi che conservano la veste linguistica siciliana. Una è una canzone, uno di questi testi è una canzone di un poeta di nome Stefano Protonotaro. Vi leggo soltanto l'inizio di questa canzone. Questo era quel siciliano aulico artificiale in cui scrivevano i poeti che gravitavano intorno a Federico II. E infatti lo sentite, che la cadenza assomiglia ancora al siciliano di oggi. Pir meu cori allegrari, chi multulongiamenti, per rallegrare il mio cuore che molto a lungo è stato senza allegrezza e gioia d'amore, gioia d'amori, mi ritorno in cantari. Ritorno a cantare. Quindi era una lingua molto diversa dal toscano. Ma quando Dante, nei primi anni del Trecento, scrive il suo trattato sulla lingua volgare, il De vulgari eloquenzia, un trattato dove Dante cerca di fissare i caratteri di una lingua illustre, di una lingua non locale, non municipale, che possa essere la lingua per tutta la poesia volgare, per tutta la poesia della penisola, quando Dante scrive questo trattato nei primi del Trecento, Dante indica nella lingua dei poeti siciliani il primo esempio storico che si è realizzato in Italia di volgare italiano illustre. Perché Dante indica questa lingua come primo esempio di volgare italiano illustre? semplicemente perché non la conosceva. Cioè Dante leggeva i siciliani nella veste toscana, nella traduzione toscana. Se avesse potuto leggere Pirmeucorialligrarichi multulongiamenti, sicuramente non avrebbe indicato un testo come questo come un esempio di volgare illustre, tale da poter essere usato da tutti i poeti italiani. Quindi persino il ricordo era stato cancellato di com'era la lingua dei siciliani. Questo ci dà l'idea di quanto è stato veloce il processo di assimilazione di questa lirica in queste nuove regioni italiane. Un travestimento che ha cancellato ogni traccia di ciò che effettivamente quella lingua era. Deve essere stato talmente veloce questo processo che possiamo persino nutrire il dubbio che non sia stato del tutto spontaneo. Cioè che si sia proceduto a tradurre in toscano questi testi anche dietro ispirazione dei circoli imperiali, dei circoli legati a Federico II. Insomma poteva essere una mossa di politica culturale, un modo di esercitare una egemonia culturale da parte degli ambienti imperiali, da parte degli ambienti legati a Federico II. Comunque l'effetto, comunque si erano date le cose, è stato di cancellare le tracce. Una grande fortuna, questi testi venivano letti da tutti, ma non venivano letti nella loro veste originale. Ma c'è stato anche un altro effetto decisamente molto più importante di questo. Chiamiamolo un effetto di emulazione. In Toscana nasce una poesia in toscano, fatta da toscani, proprio partendo dall'esempio dei siciliani. La poesia siciliana si diffonde e diventa lo stimolo perché nasca una grande tradizione poetica in una regione, la Toscana, che fino ad allora non aveva sperimentato in grandi forze la lirica profana, soprattutto di tipo amoroso. Ecco allora che qui, poco dopo la metà del Duecento, all'incirca, in Toscana e in Emilia, noi vediamo venire alla ribalta una nuova generazione di lirici involgari. Questi nuovi lirici vivono nelle città comunali, abbiamo visto, lirici che vivevano nelle corti, la lirica nasce nelle corti feudali, lirici che gravitavano intorno a una corte molto differente, la corte imperiale di Federico II. Ora usciamo dal mondo delle corti perché questi poeti invece vivono nelle città, nelle città comunali, quindi questi poeti vivono in un ambiente che è molto diverso sia dal punto di vista politico che istituzionale, soprattutto dal punto di vista sociale, sia da quello delle corti feudali, sia da quello della corte imperiale di Federico II. Vivevano in città che poi erano in perpetua discordia al loro interno e fra di loro, all'interno erano dilagnate da continue contese, contese che sfociavano anche in scontri veri e propri e che fra di loro erano divise a seconda del fatto se fossero favorevoli all'impero, quindi città ghibelline o favorevoli al papato e quindi città guelfe. All'interno lo scontro era fra chi sosteneva i vecchi valori, i vecchi valori dell'età premercantile e chi invece era portatore dei nuovi valori, dei mercanti, dei finanzieri, insomma quello scontro fra il vecchio e nuovo che poi è al centro del racconto della Divina Commedia di Dante. In un ambiente così differente è evidente che la lirica nuova, la lirica nuova che qui si produce non poteva non essere distante sia dai modelli siciliani sia dai modelli trovadorici originari. Ecco, la generazione, quella che noi chiamiamo la generazione di mezzo, quella che sta in mezzo tra i siciliani e gli stilnovisti opera in questo contesto. Non sto a farvi l'elenco dei nomi di questi rimatori, sono tantissimi ma a voi direbbero sicuramente pochi, poco. Ricordo soltanto alcuni nomi, quelli più rilevanti, quelli che poi hanno lasciato un'impronta nella storia della poesia del 200 e anche dopo. Guittone d'Aresto, Chiaro d'Avanzati, Monte Andrea a Firenze, Buonaggiunta a Orbicciani, Lucchese di Lucca, Guido Guenisselli a Bologna. Io ho fatto alcuni nomi mettendoli tutti quanti insieme. Gli ho messi tutti quanti insieme perché se noi guardiamo un po' dall'alto con un certo distacco l'insieme di questa lirica mediana, cioè della generazione di mezzo, in effetti possiamo individuare alcune caratteristiche che sono proprie dell'insieme e che la distinguono dalla lirica precedente e anche da quella posteriore, che la distinguono da quella dei siciliani ma anche da quella che verrà degli stilnovisti. Vediamo in breve quali sono queste caratteristiche che unificano tutto quanto il grande gruppo dei rimatori di mezzo, che vedremo poi in realtà può essere suddiviso in correnti. Ma vediamo prima quali sono i tratti comuni a tutti. Noi ricordate abbiamo detto che i poeti federiciani avevano un atteggiamento molto aristocratico, non si aprivano al pubblico, si rivolgevano a un pubblico molto ristretto, insomma non uscivano dal mondo dei rimatori che gravitava intorno alla curia, intorno alla corte imperiale. I nuovi lirici invece si comportano in maniera esattamente opposta. Questi lirici sono aperti, dialogano fra di loro, c'è un fitto scambio di testi di corrispondenza, polemizzano anche, in modo a volte anche molto aspro fra di loro, insomma scrivono per un ceto molto più ampio, non si rivolgono ai mondi chiusi delle corti, ma questi scrivono per i ceti colti di una città, o meglio delle città, non solo della loro città, ma anche delle altre città. Avevamo detto che i poeti di Sicilia erano molto selettivi dal punto di vista formale, rigorosi nella metrica, abbiamo detto che di fatto scrivevano esclusivamente sonetti e canzoni, erano attenti a evitare eccessi stilistici, eccessi tonali. Beh, invece i nuovi lirici sono decisamente degli sperimentalisti, cercano soluzioni metriche nuove, soluzioni anche strane, gli piace molto l'artificio, l'invenzione artificiosa e anche dal punto di vista stilistico non rifuggono dagli eccessi, dai virtuosismi, anzi sembrano proprio cercare l'eccesso e il virtuosismo. Terza e ultima caratteristica che li accomuna un po' tutti è relativa ai temi, ciò di cui la lirica può parlare. I siciliani avevano ristretto l'ambito di ciò del poetabile, di ciò di cui può essere detto in poesia unicamente alla lirica d'amore. I poeti di mezzo invece allargano la gamma di ciò che è poetabile, che può essere detto in poesia quasi a ogni forma dello scibile dell'esperienza umana, tutti gli eventi umani possono essere oggetto di poesia lirica. Questo è forse il punto più importante, questo è il punto di rottura, il punto di discrimine fra la poesia dei federiciani, dei siciliani e gli sviluppi che invece la lirica assume dopo di loro, in Toscana e in Emilia. Insisto su questo aspetto. E' tutta quanta la nuova lirica, anche se lo vedremo divisa poi in scuole, in maniere al suo interno, ma è tutta quanta la nuova lirica nel suo insieme a qualificarsi come una produzione molto compromessa con la realtà, con i temi del dibattito storico, politico, etico. Certo, l'amore resta il tema predominante, la natura dell'amore, la fenomenologia dell'amore, i comportamenti degli innamorati, le vicissitudini degli innamorati, tutto ciò resta al centro della lirica. L'amore è sempre stato il tema dominante della produzione lirica, resta dominante anche dal punto di vista quantitativo. Ma accanto alla tematica amorosa ci sono invece rivoli consistenti di poesia che esplorano altri temi, altri argomenti. Poesia che parla di questioni teologiche, l'eresia, di questioni morali, di temi scientifici, soprattutto di poesia politica e violentamente politica, di parte. Insomma, questi nuovi poeti sono dei dilettanti, come tutti i poeti medievali, nel senso che nessuno di questi fa il poeta di mestiere. Quindi sono dei dilettanti come lo erano i poeti di Sicilia. Però i poeti di Sicilia, che pure erano impegnati nell'amministrazione dello Stato in ruoli politici importanti, quando si mettevano a scrivere poesia lirica, dimenticavano completamente questo mondo quotidiano in cui erano immersi. Mentre invece questi nuovi poeti, quando scrivono poesia, non dimenticano affatto il mondo circostante. Questi poeti fanno della lirica uno strumento per intervenire nella grande politica fra stati, oppure uno strumento per intervenire nella lotta politica interna fra i partiti. Insomma, esagerando un po' e modernizzando forse un po' troppo, possiamo dire che in Toscana, con la generazione di mezzo, nasce la prima poesia impegnata in Italia. Fra un po' parleremo delle due tendenze principali in cui questa poesia di mezzo si può suddividere. Ma siccome abbiamo toccato questo tema dell'impegno politico, prima di venire a trattare di queste due tendenze principali, volevo fornirvi proprio un qualche esempio, in modo che voi vi possiate rendere conto subito di quanta sia l'apertura e la disponibilità nei confronti della realtà che questi poeti manifestano. Apertura nei confronti della realtà che naturalmente coltivono accanto al registro amoroso. Sono poeti d'amore, ma anche poeti politici, ma anche poeti impegnati. Facciamo una piccola premessa di carattere storico. Abbiamo detto Federico II muore nel 1250 e qui si apre uno scontro politico e militare fra gli eredi di Federico II, Corradino prima e poi Manfredi e il papato. Lo scontro ha come posta il controllo del regno di Sicilia. Il papa si appoggia alla Francia, tradizionale alleato del papato e in particolare si appoggia al cugino del re di Francia, Carlo I d'Angio. Questo scontro non è solo uno scontro fra gli eredi di Federico II e il papa. Questo scontro coinvolge praticamente tutte le città italiane. Le coinvolge perché le città italiane sono tradizionalmente divise in due partiti, chi sostiene il papa, chi sostiene l'imperatore. Non solo, ma lo scontro avviene, si sposta anche all'interno delle singole città italiane. Perché anche lì, anche al loro interno, le città erano divise in questi due partiti, i Guelfi e i Ghibellini. Allora, andiamo a Firenze. Andiamo a Firenze appunto durante lo scontro, la guerra che c'è fra gli Angioini, Carlo I d'Angio, da una parte, e l'erede di Federico II, Corradino di Svevia. E a Firenze noi troviamo, questo è un esempio fra i molti che vi potrei fare, troviamo un poeta Ghibellino, cioè sostenitore di Corradino di Svevia, che si chiama Chiatta Pallavillani, che scrive un sonetto a un poeta Guelfo, cioè sostenitore del papa e di Carlo I d'Angio, scrive un sonetto a questo poeta Guelfo e in questo sonetto il Ghibellino sostiene che nella guerra, nella battaglia che ci sarà, Corradino vedrà solamente i deretani degli Angioini in fuga. Il poeta Guelfo, che si chiama Monte Andrea, non ci sta naturalmente e risponde con molta violenza. Con un altro sonetto, ve ne leggo soltanto un pezzetto, me par mill'anni pur che siano al campo, che bene avrete Ghibellin ta scoppio, giamai d'alcun non si ranodrà pezzo. Cosa dice il Guelfo al Ghibellino? Non vedo l'ora che siano al campo, che vengono a battaglia, che Corradino e Carlo d'Angio vengono a battaglia, perché voi Ghibellini subirete un tale scoppio, una tale disintegrazione che sarà impossibile ricomporre anche uno solo dei vostri cadaveri. Come vedete la poesia dà voce come all'odio politico in questa Firenze? Prendiamo ancora un altro esempio, sempre Monte Andrea, Guelfo, che scrive a un altro poeta Ghibellino, o meglio, Monte Andrea aveva scritto a un altro poeta Ghibellino, che risponde? Questo poeta Ghibellino si chiama Lambertuccio Frescobaldi. Lambertuccio Frescobaldi pronostica una disfatta di Carlo I d'Angio, pronostica la disfatta dei Guelfi e con accenti di una crudezza inequivocabile, che pur conven per forza sia disgiunta la gente d'ere Carlo, ed egli ha giunta per lo signor che sovro ogni altro giunta, di suoi nemici a corsa ed a piè giunta. Con seco a tanta età leggete ha giunta, che Francia sentir farà in ogni giunta. Così scrive Lambertuccio Frescobaldi a Monte Andrea. Immagino che avrete capito pochissimo di questo sonetto. Facciamone una parafrasi in italiano moderno. Dice è inevitabile, conven, bisogna, che la gente di di re Carlo, Carlo I d'Angio, venga violentemente digiunta, disgiunta, sradicata, e lui con loro, ed egli ha giunta, insieme a loro. Venga sradicata per lo signor, a opera del signore, questo è Corradino di Svevia, che meglio di ogni altro raggiunge i suoi nemici, giunta i suoi nemici, che più di ogni altro riesce a prenderli, a catturarli, ad afferrarli. Di corsa e a piedi giunti, anche tenendo i piedi giunti, Corradino riesce a catturare i suoi nemici. Con lui si è aggregata, a tanta gente aggiunta, si è aggregata tanta gente, tanta e tale, che Francia, Carlo I è d'Angio, quindi francese, risentirà del colpo in ogni sua giuntura. Giunta, l'ultimo giunta, significa giuntura. Beh, prima della parafrasi, forse avevate capito un 10% di questo testo, ma non è colpa vostra, perché questo testo è volutamente difficile, questo testo è volutamente oscuro, è tutto giocato su equivoci e su ripetizioni. Per esempio le rime, guardate, disgiunta, giunta, 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 aggiunta, giunta. Ora, tutte queste, vi sarete accorti, che non hanno sempre lo stesso significato, hanno lo stesso suono, ma hanno significati diversi. Questa si chiama rima equivoca, quando la rima si presenta identica dal punto di vista fonico, ma diversa dal punto di vista semantico. Ma qui è un vero esercizio di bravura mettere insieme tutte queste rime equivoche. Questo testo è volutamente oscuro. Avete visto con questo pezzo di un sonetto un esempio di trobar clus, trobar clus, è un'espressione provenzale che significa poetare chiuso. Cos'è il poetare chiuso? È un modo di fare poesia volutamente oscura, poesia volutamente difficile. Era un modo che aveva successo in Provenza e che, vedremo, avrà successo in Italia, specialmente nella generazione di Mezzo di cui stiamo parlando e in modo particolare presso un poeta della generazione di Mezzo, cioè Guittone D'Arezzo e presso i seguaci di Guittone D'Arezzo. Comunque, tornando un'ultima volta al nostro tema politico, un furore come quello che si manifesta nei testi che abbiamo letto, assolutamente sarebbe stato impensabile presso i poeti siciliani. Quelli parlavano solo di questo mondo rarefatto e separato dell'amore. Mai sarebbero usciti fuori da questo recinto, da questa protezione rappresentata dallo schermo amoroso. Ma anche nei poeti successivi, nei poeti lirici successivi, è difficile trovare testi così fortemente impegnati, con tanto carichi di passione di passione e di odio politico. In fondo sarà soltanto con la Commedia di Dante che noi troveremo passaggi di una violenza passionale analoga a questa, ma la Commedia di Dante non è lirica, con la Commedia di Dante siamo in un altro genere letterario. Prima accennavo alla varietà di temi e di argomenti che si riscontrano nella poesia toscana di questo periodo. Ci sono i temi politici di cui abbiamo avuto qualche esempio, ma accanto ai temi politici ce ne sono molti altri che hanno una loro notevole rilevanza. Temi di carattere etico, addirittura di carattere dottrinale. Cosa si intende per poesia dottrinale? Forse con un esempio ci possiamo capire meglio. Come esempio leggeremo la prima stanza di una canzone, anche questa scritta in uno stile complicatissimo e con una forma metrica molto astrusa. È un esempio anche questo di Trobar Clus, di poetare chiuso, volutamente oscuro. L'autore della canzone è un certo Matteo di Arezzo, non è noto, è stato scoperto di recente questo rimatore, povero rimatore, poverissimo dal punto di vista del valore poetico rimatore. Matteo di Arezzo indirizza questa canzone al caposcuola indiscusso di questa generazione, Aguittone d'Arezzo. Chi è Matteo d'Arezzo? Matteo di Arezzo è un eretico, è un cataro e ha un ruolo importante nella chiesa catara, è vescovo di Pisa. I cateri erano eretici di tipo gnostico, cioè predicavano un dualismo molto rigido. Secondo i cateri in principio non era il verbo come recita il Vangelo, ma all'inizio c'era una dualità, c'era il principio del bene e il principio del male, non un unico principio generatore da cui poi sarebbe disceso il male. Quindi secondo i catari il male non deriva, non nasce dalla caduta dell'angelo come conseguenza della ribellione dell'angelo, ma il male è sempre stato. Ora questa canzone è un vero manifesto delle idee catare sul bene e sul male e nello stesso tempo è anche una specie di requisitoria contro la teologia ortodossa, cristianamente ortodossa, del corrispondente di Guitone d'Arezzo. Leggiamo la prima stanza soltanto, non vi spaventate, poi facciamo la parafrasi. Fonte di sapienza nominato, frate Gittone siete al mio parere, ora di dirmi deggiavi piacere se dal ben puro male è derivato, o se mal come bene ebbe suo stato, com'on senato dè tutta stagione, segue il ragione, non vana opinione che da ragione si parte. Ne dio per alcun'arte veder posso, se dio sempre eternale ebbe valore, ricore di saver tutta abbondanza e per certanza da nulla malenanza contastato, e l'angel bon creato fu da lui, come egli poi di tanta bonità si è privato. Cosa dice? La parafrasi è complicata, non è così facile capire tutti i passaggi di un testo come questo. Vi propongo la parafrasi che di questo testo ha fatto Claudio Giunta, che è lo studioso che di recente ha scoperto l'esistenza di questa canzone. Dice, frate Gittone, voi che siete a mio parere un dotto di grande reputazione, ditemi se il puro bene ha prodotto il male, o se male e bene ebbero origini distinte. Dal momento che l'uomo assennato deve sempre seguire la ragione, non l'opinione falsa, cioè che sarebbe il sentito dire, che si allontana dalla ragione. Ne io riesco a capire in alcun modo come mai, se dio ebbe ad eterno, fin dal principio, potenza, ricchezza e scienza in sommo grado, ne fu ostacolato, contastato da alcuna causa maligna proveniente dall'esterno, da alcuna malenanza, e se l'angelo fu creato buono da lui, l'angelo come mai poi quest'ultimo, l'angelo sia stato privato di questa bontà, si sia dannato. Cioè Lucifero, se Lucifero era stato creato buono perché è diventato malvagio? Non riesco a capirlo, dice il nostro cataro Matteo di Arezzo, ma lo dice in una maniera particolarmente complessa e lo dice come vedete con una sottigliezza di argomentazioni degne di un filosofo. Prima poesie di questo tipo in Europa non se ne facevano, anche la poesia che non era strettamente d'argomento amoroso, non riusciva a mettere in versi una tale complessità di ragionamento, questioni teologiche fondamentali come sono quelle che qui il nostro Vescovo Cataro sta trattando. Anche qui se vogliamo fare un esempio, se vogliamo individuare qualcosa che si avvicini a un testo come questo, l'unico esempio che può soccorrerci è quello del poema di Dante, di certi canti teologici e dottrinali della commedia di Dante. Ma ripeto, la commedia di Dante non ha niente a che vedere con la lirica. A questo punto abbiamo visto che quella genere letterario aristocratico, schivo, che si era affermato in Italia agli inizi del 200, si diffonde in Toscana e circa sulla metà del secolo, imbocca una strada completamente diversa, imbocca la strada che porta al coinvolgimento nei dibattiti culturali e politici, imbocca la strada dell'impegno, impegno di vario tipo, impegno politico, religioso, etico, filosofico. Ma parlare di impegno di per sé significa dire, significa sottolineare che in questa poesia c'è una volontà di incidere sul reale. Significa che questi poeti concepiscono la poesia lirica come un mezzo di comunicazione che è capace di trasmettere dei messaggi forti, dei messaggi efficaci. Significa dire, in sostanza, che il genere lirico può avere anche forti intenti didattici, può essere anche un genere letterario che insegna. Ne riparleremo alla prossima lezione. Vi saluto e come al solito vi invito ad andare su internet per approfondire gli argomenti di questa lezione. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.